Un convegno internazionale dedicato all'architettura lombarda dell'undicesimo secolo alla scoperta dei tesori del Romanico. Ad ospitare i maggiori studiosi europei del Romanico sarà ovviamente Pavia, che con le università di Udine e Milano ha concluso un biegno di ricerche nell'ambito della storia dell'arte medievale. 29 esperti presenteranno l'aggiornamento del repertorio scientifico del patrimonio architettonico del nord Italia e delle zone d'Oltralpe. A Pavia esistono bellissimi esempi di Romanico, tra cui la chiesa di Santa Maria Gualtieri, la Torre Civica, che un tempo svettava maestose in Piazza del Duomo e la Cattedrale, nonché Sante Eusebio e San Giovanni Domnarum. Il convegno organizzato dall'Università di Pavia inizierà domani con l'intervento degli esperti in Aula Foscolo e si concluderà domenica 11 aprile con la visita delle chiese romaniche della nostra città.